buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o bentornati sul mio canale oggi come promesso facciamo l'ultimo spacchettamento di album 14 e in questo caso sono arrivati due colli di prodotti e contengono all'interno solo bagno doccia perché era uscito un volantino all'interno del quale 5 bagno doccia da 200 ml costavano 9,95 quindi una promozione imperdibile e le mie clienti ovviamente non se la sono lasciata a scappare quindi direi di iniziare subito come al solito mi raccomando prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti che porterò nel canale allora l'ho aperto al contrario quindi non fate caso come al solito o meglio l'ha aperto mio fratello perché il pacco l'ha ritirato mio fratello e già abbiamo fatto danni perfetto allora esattamente non vi saprò ricomporre i set perché molte cose cioè alcune profumazioni non sono arrivate perché penso fossero finite io ho ordinato negli ultimi giorni quindi probabilmente alcune profumazioni erano terminate il set allora c'erano 3 tipologie di set i rilassanti poi magari vi lascio qua la foto così potete vedere i rilassanti gli esotici e gli energici se non sbaglio gli energici di cui io dovevo ordinare 5 set erano ormai terminati quindi ho dovuto ordinare poi gli energici perché i rilassanti erano quelli che mi piacevano di meno e con le mie clienti abbiamo optato per quindi gli esotici nonostante questo c'è comunque un ordine per quanto riguarda il set dei rilassanti però siccome mancavano dei prodotti mi sono stati inviati dei prodotti sostitutivi come succede di solito appunto quando manca qualcosa e alcuni prodotti li avevo io li ho io qua a casa quindi probabilmente sostituirò poi quello che manca nel set sperando di riuscire più o meno a dare i prodotti che c'erano scritti ovviamente alle clienti allora non so in quale set fosse però abbiamo qui tre bagno doccia bagno doccia niente oggi mi cade tutto ma io non so allora il totale dell'ordine era circa 120 euro 118 forse sì più o meno insomma il prezzo cioè il costo era quello abbiamo quindi tre bagno doccia all'argan e rosa quindi un due tre sicuramente ce ne sono altri poi dentro ma per ora qui ne abbiamo tre e li mettiamo da parte poi abbiamo per esempio allora frutto della passione faceva parte del set degli energici quello che poi era ormai andato in rottura però me li hanno mandati lo stesso quindi tanto meglio perché mi piacciono e sicuramente piaceranno anche le mie clienti allora non riesco a prenderli in mano tutti quindi ve li faccio vedere a tranche insomma abbiamo tre uno due tre quattro cinque e sei e questi sono appunto frutto della passione e ginger e sono delle ultime uscite erano un'edizione limitata di qualche volantino fa e sono tornati appunto per questa offerta poi abbiamo allora sì due due bagno doccia alla mandorla e fiori d'arancio poi abbiamo tre e questi sono buonissimi tre bagno doccia al cocco infatti sono morta da ridere perché ho avviato il volantino ad una mia cliente e lei mi ha risposto sì perfetto io ne voglio cinque al cocco no forse non ci siamo capite i set sono precostituiti quindi puoi prendere quello con il cocco però non c'è solo cocco sì sì ma io ne voglio cinque al cocco vabbè allora dopo un po' ci ho rinunciato e spero che abbia capito comunque tre al cocco poi 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 allora uno due tre questo uguale sì quattro alla vaniglia anche questo è buono anche se non mi fa impazzire onestamente però alle clienti piace tantissimo quindi saranno contenti di sapere che la vaniglia è arrivata poi ne abbiamo due ai feri di loto e salvia che sono appunto del set dei rilassanti che sono arrivati poi ne abbiamo uno alla lavandina e mora e uno all'oliva questo penso che sia senza offesa e la peggiore profumazione che abbiamo infatti non so come si possa acquistare cioè io per me non l'acquisterai mai quindi lavandina e mora e oliva e petit grain e questo primo pacco come potete vedere a parte questo solito effetto abbiamo un secondo pacchetto con altri bagno doccio ovviamente allora all'interno qui cosa vedo cocco cocco allora altri due al cocco quindi totale ne abbiamo cinque ok quindi cocco sono arrivati tutti bene allora poi qua ho un mango e coriandolo che era del set però che era in rottura quindi non so perché sia qui però probabilmente perché manca qualche altra profumazione sicuramente poi abbiamo allora non sto capendo però allora fiori di cotone e mimosa sono sicura che ne dovevano arrivare due per due set invece ne è arrivato uno solo quindi in qualche modo faremo anche questo non è uno dei miei preferiti però meglio di altri insomma e ha una consistenza tipo lattiginosa come questo ai grandi di caffè me ne hanno inviato uno che anche questo fa parte del set in rottura quindi non so effettivamente che miscuglia abbiano fatto però va bene poi abbiamo uno grande al cocco e questo me l'ha ordinato una cliente a parte quindi non c'entra con la promozione poi abbiamo uno grande alla mandorla e fiori d'arancio anche questo me l'ha ordinato una cliente senza acquistare dalla promozione poi ne abbiamo ok ne abbiamo altri tre all'argan e rosa quindi totali all'argan e rosa sono sei e anche qui poi insomma dovrò fare un attimo dovrò capire un pochino perché non sto capendo bene che cosa abbiamo fatto qui allora ne abbiamo un'altra alla vaniglia quindi si aggiunge ai quattro che avevamo prima la vaniglia sono cinque sono arrivati tutti qua abbiamo frutto della passione ginger un altro poi abbiamo lampone menta piperita sì allora penso che facendo un po' i conti velocemente penso che sia riuscito ad arrivare un set completo di questi che sono gli energici ok sono stata interrotta ma dicevamo quindi penso che un set in tutto alla fine sia riuscito ad arrivare quello che era la rottura degli energici quindi sono contenta che almeno uno è arrivato un altro lavandina e mora quindi ne abbiamo lavandina e mora due che sono del set dei rilassanti questo è all'oliva quindi un altro all'oliva ok poi il problema sono questi perché in teoria c'è una profumazione che manca ora vediamo se qua lo scrivo anche perché io ho controllato la bolla ma non era scritto quindi non capisco quale manchi cercando di fare mente locale ma non mi viene in mente quali mancano allora sicuramente ne manca uno di questi del set dei rilassanti che non è arrivato quindi hanno mandato in sostituzione uno grande all'oliva almeno diciamo hanno deciso di non so come si dice ok hanno deciso di rimediare insomma mandandone uno grande così da poter in qualche modo diciamo tamponare quindi questo sicuramente riguarda quello che manca e poi non riesco a capire che cosa sia stato inviato beh sicuramente c'è una profumazione mancante che ora non mi sta venendo in mente quale sia probabilmente perché non mi piace come ahhh ahhh manca fiori di tiare e lang y lang che era nel set appunto degli esotici che non c'è quindi hanno mandato questi grandi all'oliva ahhh vedi abbiamo svelato l'arcano quindi abbiamo quattro grossi all'oliva perché non c'erano quelli piccoli ai fiori di tiaree e quindi hanno deciso di rimediare in questo modo perfetto ok un tra di noi un album sedici un sacchettino l'album quindici e il catalogo di natale come al solito più questa cremina a mani che non c'entra un cavolo e che ho buttato dentro io quindi a posto va bene quindi come potete vedere il pacco è completamente vuoto vi ho fatto vedere tutto adesso magari vi faccio una ripresa vi faccio una ripresa di tutti i bagno doccia che ho qua di fianco così vedete un po' meglio comunque vi lascerò la foto così vedete tutte le profumazioni per il resto spero che il video vi sia piaciuto e spero di vedervi molto presto sul mio canale con un prossimo video anche perché ho in mente di fare almeno due tre video quindi uno sicuramente in cui vi mostro come organizzo il mio studio di Yves Rocher e appunto come catalogo gli ordini e come faccio anche i pacchettini di natale perché una ragazza me l'ha chiesto quindi ci vediamo prestissimo con un nuovo video vi auguro una buona giornata vi mando un grosso bacio a presto promesso ciao